In occasione della Festa della Donna è stata presentata alla Sala Mariella Cirillo la rassegna 8 marzo e non solo. Un'iniziativa realizzata dalla città metropolitana di Napoli e dalla consigliera di parità in collaborazione con l'Osservatorio Permanente Centro Storico di Napoli, Sito Unesco. L'iniziativa è volta a far vivere progetti strategici che siano un avanzamento di civiltà lungo la strada delle pari opportunità. Tale programmazione nasce anche dalla sinergia con i comuni dell'area metropolitana di Napoli e le associazioni presenti sul territorio. Fittissimo il calendario degli eventi che si snoderanno tra la città di Napoli e i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare, San Giorgio, Sorrento, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abbate, Scisciano, San Vitaliano, soltanto per citarne alcuni. In città a Napoli ci sarà la manifestazione Isto vicino a te, la forza delle donne tra comunità e territori. Poi tantissime iniziative di carattere culturale, scientifico ma anche di spettacoli e momenti di aggregazione. A parlarci dell'iniziativa il vice sindaco metropolitano Elena Coccia. Noi vorremmo sottrarre la giornata della donna che non è una festa ma è una giornata di ricordo e di lotta da quella che era diventata negli ultimi anni, cioè la pizza, la festa, addirittura si era arrivata al punto di andare a balletti con uomini nudi eccetera. Noi vogliamo dire che noi donne siamo diverse, noi donne siamo qualcosa in più e per questo che abbiamo messo insieme con Isabella Bonfiglio, la nostra consigliera di parità della città metropolitana, abbiamo messo insieme un ricchissimo cartellone con tutte le iniziative di tutti i comuni della città metropolitana.